Guarda, mi spiace essere maleducata, così in realtà il mio naso, forse questo accentua un po', però visto che hai scritto io mi lamento del mio naso ma il tuo è molto peggio, senza l'accento e così è una preposizione semplice, beh a parte che magari oltre a guardare il naso ripasserei un po' di grammatica, comunque sono andata a vedere il tuo profilo e altro che il naso, cioè i problemi sono ben altri, mi permetto di essere maleducata perché se in un video in cui si parla di una cosa chirurgica tu noti il naso, ti consiglio di usare meno filtri perché le foto super filtrate sono ridicole, soprattutto in una signora non giovanissima e che è mamma magari, quindi insomma darsi una bella regolata e un po' di grammatica e poi non ti preoccupare che pian piano dimagrendo cambierà anche il mio naso, l'importante è quello che c'è qui dentro perché quello che hai qui dentro neanche lo psichiatra può aiutarti a sistemarlo, buon proseguimento beh ma signora io non vado a canale 5 o alla Rai, ho un profilo, non sono una persona famosa e mi espongo in che modo? Facendo dei video dove racconto me stessa, anche lei si espone perché ha una foto profilo ma comunque ringrazio chi mi dice sei bellissima, credo che lo dica in senso affettuoso, non estetico ad ogni modo non mi reputo bellissima, non ho mai detto di esserlo, però credo che non per questo mi debba sentir dire sei un maiale, fai schifo, eccetera eccetera perché la signora in questione mi ha offeso sotto tantissimi video per fortuna TikTok ha bloccato i commenti, io mi sono accorta solo di questo a cui ho risposto però non mi sembra giusto che una donna di 40-50 anni, neanche di 20 però a maggior ragione venga a offendere una persona più giovane, nel senso che quindi in teoria dovrei essere io meno avvezza alla vita ok? E con queste affermazioni, poi se io mi esponessi mostrandomi nuda o in altre maniere comunque nessuno sarebbe autorizzato ad offendermi, c'è modo e modo di dire le cose anche altre persone hanno detto come mai non hai fatto una dieta per esempio oppure ok può essere una persona che dica stai bene coi capelli così, una che dica no ci mancherebbe, però nel momento in cui si sta su un social ci si espone a meno che le persone non facciano i profili fake con il nome di fantasia o user e con le foto di fantasia gli avatar o il cagnolino e i topolini però altrimenti saremmo tutti esposti, il discorso non è quello allora scusi faccio l'esempio, un personaggio famoso siccome è esposto mediaticamente può essere offeso e insultato? No, si può criticare ok? La critica costruttiva ma non si può offendere, cioè questa signora ma chi è? Ma chi la conosce? Ma come si permette di venirmi a scrivere così sotto 5, 6, 10 video? E perché allora il social in automatico blocca certi commenti? Perché non sono corretti, poteva semplicemente dire trovo che tu abbia un naso grosso, sarebbe stata maleducata ma diverso ma dire io mi lamento del mio, mamma mia e tu? Più altre offese in altri video e poi far finta di dire il mio è sarcasmo il cervello ce l'ho, ma che cervello ha? Che sul suo profilo posta le frasi della Bibbia ma complimenti? Ho posta le frasi mi invidiate tutti, ma la signora si comprasse uno specchio ma chi la invidia? Allora se devo offendere offendo anch'io, ma così scendiamo proprio a livelli bassissimi